Fassa, azienda leader in Italia nel settore dell'edilizia, per tradizione, innovazione e qualità, presenta la linea in tonaci. Il silo Fassa viene caricato con il tonaco premiscelato in stabilimento ed è quindi pronto per essere trasportato direttamente in qualsiasi tipologia di cantiere. Dopo aver effettuato correttamente tutti i collegamenti, la stazione silo è quindi pronta. Ma vediamo in dettaglio il suo funzionamento. L'intonaco all'interno del silo è completamente asciutto. Con un sistema di pompaggio raggiunge la macchina intonacatrice, dove si mescola con acqua, ottenendo un impasto pronto all'uso. In questo modo si elimina qualsiasi necessità di manovalanza e spreco di materiale. Per intonacare le pareti interne con intonaco a base di calce e cemento, dobbiamo procedere alla pulizia della muratura dai florescenze e materiali estranei, spianando eventuali sporgenze di malta. Nel caso vi siano pareti in calcestruzzo liscio, è opportuno far precedere l'applicazione dell'intonaco da un rinzaffo con SP22, che permette un miglior aggrappo al sottofondo. La preparazione delle pareti procede quindi con l'applicazione dei paraspigoli. È necessario controllare che siano perfettamente a piombo, con una staggia munita di bolla. Segue la realizzazione delle guide di riferimento. In alternativa si possono usare anche appositi profili metallici AT. Nel caso non sia stata installata la stazione SILO, l'intonacatrice viene alimentata con sacchi. In questo caso il prodotto che usiamo è KS9. È necessario prestare particolare cura al controllo della quantità d'acqua. Questa va regolata con l'apposita manopola, verificando il valore sul display luminoso. L'intonacatrice FASSA I41 è dotata del sistema brevettato di sostituzione rapida del polmone in gomma o della vite senza fine. La piombatura delle pareti è condizione necessaria per una corretta intonacatura. Dopo aver rabbottato le guide si inizia a spruzzare l'intonaco sulla parete. La spianatura si realizza utilizzando stagge ad H o a C con passaggi verticali ed orizzontali. è opportuno procedere ad una seconda spruzzata per riempire le parti dove è necessario ancora dell'intonaco. Le pareti vengono nuovamente staggiate fino ad ottenere delle superfici perfettamente piane. Per i soffitti si procede allo stesso modo. l'intonaco adesso è pronto per l'applicazione delle diverse finiture. Tra le varie finiture possiamo utilizzare la malta fina disponibile pronta in sacchi da circa 25 kg. Va stesa con spatola americana in spessore di 2-3 mm con passate successive. dopo aver atteso un breve periodo si procede alla finitura con frattazzo di spugna bagnando la superficie con acqua fino ad ottenere una superficie omogenea. FASSA propone per le finiture anche una malta fina secca IF18 disponibile in sacchi da circa 40 kg. Si impasta con acqua fino ad ottenere un composto omogeneo. Dopo l'applicazione a più passaggi viene rifinito con frattazzo di spugna bagnando la superficie con acqua. Se si vuole ottenere una finitura particolare FASSA propone l'uso di ZL25 che consente di ottenere una finitura a gesso di notevole risultato. Si impasta con acqua utilizzando un agitatore meccanico e si applica con una spatola metallica. Applicazioni successive ne fanno risaltare la lisciatura tipica delle pareti tirate a gesso. Non è consigliato l'uso delle finiture a gesso in ambienti umidi. Vediamo in dettaglio il lavoro realizzato. Pareti interne. L'intonaco di fondo a base di calce e cemento è KS9. Nei casi in cui siano richieste caratteristiche specifiche si possono applicare ad esempio il biointonaco KB13 con certificazione ANAB oppure l'intonaco resistente al fuoco KP3 con certificazione REI. Finiture. La malta fina con finitura civile, l'intonaco di finitura a base di calce e cemento IF18, l'intonaco di lisciatura a base di calce gesso ZL25 o dove si è richiesto il biointonaco di finitura a base di calce S605 con certificato ANAB oppure in alternativa gli stucchi e gli intonachini della linea DECOR CALCE. Un'altra soluzione per le pareti interne è l'intonaco a base di calce e gesso ZF12 disponibile sfuso e in sacchi da circa 40 kg. Si applica con comuni intonacatrici per premiscelati. Si spruzza direttamente sulle pareti e si spiana con staggia ad H o a C con passaggi verticali ed orizzontali. Poi si procede ad una seconda spruzzata per riempire le parti dove è necessario ancora dell'intonaco. Per i soffitti si procede allo stesso modo. La staggiatura viene con passate incrociate. ZF12 si applica in spessori fino a 20-30 mm. Il giorno dopo si realizza la finitura con ZL25 disponibile in sacchi da circa 25 kg. Dopo averlo miscelato con acqua con apposito agitatore meccanico si applica con spatola metallica in spessore massimo di 3 mm e viene tirato con più passate. Il risultato è una parete perfettamente liscia. Vediamo ora in dettaglio il lavoro realizzato. Pareti interne. L'intonaco di fondo a base di calce e gesso ZF12 oppure in funzione delle abitudini applicative l'intonaco di fondo a base di calce e gesso ZB23 da frattazzare. Gli intonaci di fondo a base di gesso e perlite ZA150 e ZA161 ed infine la scagliola. Finiture. l'intonaco di lisciatura a base di calce e gesso ZL25 o in alternativa l'intonaco di lisciatura a base di gesso ZM136. L'intonacatura delle pareti esterne di un edificio rappresenta un momento importante in cantiere. L'intonaco premiscelato FASSA è la soluzione ideale per velocità di applicazione e per la notevole riduzione dei costi di manodopera circa il 40% in meno mantenendo una qualità elevata sempre costante. Per intonacare le pareti esterne FASSA consiglia l'intonaco con idrorepellente KI7. In alternativa è disponibile il prodotto tradizionale KC1. Entrambi sono forniti sfusi e in sacco. Prima dell'applicazione si devono posizionare i paraspigoli e realizzare le guide di riferimento. Inoltre si ricorda che è sempre opportuno riempire con malte eventuali fori presenti nella muratura. Nel caso vi siano punti con elementi di diversa natura, come pilastri in calcestruzzo, si devono armare corrette speciali in fibra di vetro alcaliresistente, inserita nell'intonaco già spruzzato. La spianatura si effettua con stagge ad H o AC, con passaggi verticali ed orizzontali. Per spessori superiori ai 20 mm si procede ad una seconda applicazione, dopo almeno un giorno. Per ottenere una finitura con caratteristiche ottimali, FASSA consiglia l'uso dell'intonaco di finitura a base di calce e cemento IP10. Fornito in sacchi, viene impastato con acqua con agitatore meccanico, steso con spatola metallica e successivamente frattazzato con spatola di plastica. Grazie alle diverse granulometrie in cui è disponibile, può conferire un aspetto rustico alla parete che è così pronta per essere dipinta. In alternativa, il prodotto consigliato è IG21. Dopo aver miscelato il prodotto con acqua con l'aiuto di agitatore meccanico, si procede alla stesura con spatola metallica. La finitura si completa con frattazzo di spugna bagnando la superficie con acqua. FASSA propone anche una gamma di rivestimenti murali a base minerale, che rappresentano una delle più efficaci e moderne finiture. Infatti riescono a garantire per la loro composizione una perfetta traspirazione delle pareti e sono in grado di contenere eventuali microfessurazioni dell'intonaco. Nella gamma di rivestimenti RF100, disponibile in sei diversi colori più il bianco, rappresenta il prodotto a granulometria più fine. Si prepara miscelando con acqua per non più di tre minuti e si applica con spatola metallica. È sempre opportuno far precedere la stesura del rivestimento dall'applicazione del primer AG15, che viene preparato miscelandolo con acqua, nella proporzione di una parte di AG15 e otto parti d'acqua. La stesura del rivestimento deve essere effettuata senza interruzioni, per evitare eventuali variazioni di tonalità e segni di ripresa. La finitura si realizza con spatola di plastica. Se si vuole ottenere un rivestimento a granulometria più grossa, il prodotto da usare è RM200 o RG300. L'impasto e la stesura si realizzano come per RF100. Inoltre sono disponibili i prodotti delle linee colori fassa, decor calce, idrosiliconica, ai silicati e acrilica. Vediamo in dettaglio il lavoro realizzato. Pareti esterne L'intonaco di fondo a base di calce e cemento con idrorepellente KI7 O in alternativa l'intonaco di fondo tradizionale a base di calce e cemento KC1 Finiture L'intonaco di finitura a base di calce e cemento IP10 O l'intonaco di finitura a base di calce e cemento IG21 O la soluzione primer AG15 Con i rivestimenti minerali a base di calce RF100, RM200, RG300 In alternativa la gamma completa di pitture e rivestimenti delle linee colori fassa Fassa Una gamma completa di intonaci, finiture e rivestimenti Prodotti di qualità Per un'edilizia di qualità Per un'edilizia di qualità